Expo 2015 incognita zolla a distanza di tre mesi dalla fine dell'esposizione ancora incerto il futuro di Piazzetta Piacenza a Milano due le ipotesi lo smantellamento della struttura oppure la trasformazione in un infopoint spray in aula lezione sospesa attimi di apprensione stamattina al liceo respighi dove un giovane avrebbe spruzzato in classe uno spray al peperoncino di una compagna credendosi trattasse di un profumo duomo lavori finiti a giorni la cattedrale sarà restituita la città dopo il restauro del campanile da oggi la rimozione dei ponteggi sulla facciata jazz fest 2016 cartellone ricco tra gli ospiti spicca il pianista Kenny Barron e al via la manifestazione il 13 febbraio alle rotative numerosi gli eventi collaterali